Ci fu un tempo in cui tutto ebbe inizio. Dal buio, un'esplosione di luce diede forma a quattro elementi. Terra, fuoco, acqua, aria. Uniti insieme, hanno plasmato il nostro mondo. Poi l'uomo apparve, con la mente e la volontà, dominando i quattro elementi e creando meraviglie. Ma non fu solo forza bruta a guidarlo, fu la creatività ad elevare la sua anima. Dalle pitture rupestri ai grandi capolavori di oggi, l'arte racconta l'evoluzione dell'uomo. Una storia che ha origine con la sua creazione. Aria, l'inizio di una nuova era. Immaginare il futuro e trovare soluzioni. Per l'Energy è questa la vera missione. E così, dalla mente dei nostri ideatori, nasce Aria, la fusione tra tecnologia e sicurezza. Aria è luce, innovazione, design. Dotata di speciali sensori ambientali, è in grado di rilevare temperatura, umidità, luminosità e qualità dell'aria. Sempre connessa al sistema Cloud Linergy e gestibile da remoto tramite app, per avere tutto sotto controllo, ovunque ti trovi. Infine la forma, due pezzi unici, semplice da installare. La sintesi perfetta di eleganza e funzionalità. Si fonde armoniosamente con ogni ambiente. Aria, il dispositivo intelligente che si prende cura di te e dei tuoi spazi. Aria, il dispositivo intelligente che si prende cura di te e dei tuoi spazi. Aria, il物 aria, il dispositivo intelligente che si prende cura di te e dei tuoi spazi. Grazie.